buongiorno buongiorno a tutte buongiorno a tutti e buona giornata internazionale della donna vedo che già in chat sono arrivati i primi auguri primi saluti quindi ne approfitto anche io giornata internazionale della donna che il motivo per cui facciamo questo webinar insieme oggi se avete letto il titolo avete letto un po la descrizione del webinar sapete di che cosa parleremo del perché quindi ne parliamo proprio oggi mentre vi collegate vedo intanto che i numeri stanno salendo quindi vi lascio un po di tempo per collegarvi mettervi comodi e comode e preparare tutto al meglio per questa oretta che passeremo insieme e inizio con il presentarvi il mondo di art scuola e poi mi presento anche io e inizio un po raccontarvi l'argomento di oggi appunto a scuola se avete seguito qualche altro webinar sapete che i webinar che vengono proposti alle scuole sono solo una piccola parte del mondo di art scuola come potete vedere qui ci sono tantissime iniziative dedicate a scuole di ogni ordine grado potete trovare tutte queste informazioni sia sul sito scuola.irc.it che eventualmente sempre sul sito poi iscrivendovi alla newsletter la newsletter è uno strumento che ci serve per rimanere sempre aggiornati se siete interessati a queste iniziative e non volete perdervene neanche una come classe come studenti come insegnanti l'iscrizione alla newsletter potrebbe essere un buon modo per rimanere sempre aggiornati mi presento io adesso e vi dico anche che come vi accennavo prima io leggo la chat leggo tutti i messaggi che voi mandate dentro la chat tutte le domande quindi vi invito mentre io mi presento se volete rompere il ghiaccio e presentarvi anche voi potete scrivermi da dove ci state seguendo che classe siete se siete scuole superiori medie secondaria di secondo grado primo grado potete declinarlo come volete anche se siete in dad o se siete in presenza io spero che riusciate ad essere tutti in classe insieme non ci sia nessuno di voi a casa però insomma tutte queste informazioni io le posso leggere dalla chat quindi vi invito ad usarla anche perché sarà lo strumento che ci servirà per interagire durante questa questa ora che passeremo insieme ve lo anticipo già vi farò un sacco di domande ad alcune risponderemo tramite una piattaforma che adesso vi presento ad altre invece ci lanciamo nella nella chat e andiamo a ruota libera nella chat quindi vediamo se funziona aspetto i vostri i vostri saluti intanto vi presento l'argomento del webinar di oggi parliamo in occasione proprio della giornata internazionale della donna di donne e scienza parliamo di ricercatrici di scienziate che hanno dato un apporto molto significativo al al mondo scientifico e cercheremo di analizzare non solo le loro scoperte ma anche un po le loro storie tutto quello che hanno dovuto affrontare per arrivare ad essere riconosciute come scienziate e ad essere a far sì che le loro scoperte venissero riconosciute e vedremo come da sottotitolo che alcune scienziate che citeremo hanno vinto un premio nobel il loro lavoro è stato ampiamente riconosciuto altri invece non sono state così fortunate ma le loro scoperte e il loro apporto è stato fondamentale in alcuni campi e in alcune situazioni che sicuramente di cui sicuramente avete sentito parlare ma magari non avete sentito citare questi nomi io invece mi chiamo federica sono una divulgatrice scientifica e appunto staremo insieme un'ora a parlare di questo intanto vedo che dalla chat arrivano i primi saluti e abbiamo la seconda p dell'istituto socio sanitario di casal maggiore che ci augura una buona festa della donna buona giornata della internazionale della donna quindi saluto e saluto anche vediamo se riesco a leggervi per bene ok la quinta del rosselli buongiorno a tutti buongiorno anche a voi benvenuti quindi credo che siate tutti insieme in classe molto molto bene sono molto contenta e anche la seconda biliceo scientifico del giordano bruno di melzo con la professoressa sfino quindi sono molto contenta di avervi qui la quinta del liceo di scienze umane ok molto bene quindi parliamo di scuole secondarie di secondo grado qualcuno pronto alla maturità quest'anno qualcuno meno forse spero che magari vi dia ispirazione questo webinar per qualche per qualche argomento da trattare poi prossimamente abbiamo anche la seconda b di cremona buongiorno e la terza a del dell'istituto di biotecnologie sanitarie molto bene biotecnologie tra l'altro è il campo in cui mi sono laureata io quindi sicuramente parleremo un linguaggio comune saluto ancora la terza e dell'istituto par pascoli di aprilia e direi che a questo punto possiamo cominciare possiamo cominciare anche perché vi ho detto che vi farò un sacco di domande mi piace fare domande e mi piace dare l'impressione almeno di non parlare da sola per un'ora e per le domande che vi farò useremo una piattaforma che inizio a presentarvi questa piattaforma sicuramente l'avete già usata l'avrete conosciuta in questi due anni di didattica a distanza pandemia questa piattaforma che usiamo insieme si chiama kout kout vi permette tramite il vostro telefono di collegarvi direttamente al gioco e di rispondere in prima persona alle domande come funziona il collegamento dovete avere un telefono a disposizione se potete scegliere a seconda di delle vostre politiche scolastiche se usare un solo telefono per classe quindi magari usato dall'insegnante oppure uno a testa per rispondere direttamente alle domande andate sul sito www.kout.it e digitate il pin che trovate qua condiviso schermo e poi come anna e lollo mettete un nickname vi chiedo gentilmente di non mettere nome e cognome per questioni di privacy ok perché almeno il nome basta diciamo non è necessario mettere nome e cognome mettete nome o un nickname se siete se siete ispirati non non mettiamo non mettiamo nomi e cognomi vedo che vi state collegando ok vi lascio un po di tempo e intanto ritorno alla presentazione tanto il il pin e all'interno della chat quindi lo potete rileggere tutti insieme la vostra insegnante ve lo può riportare nel caso non l'aveste ancora inserito tra l'altro c'era anche un qr code quindi magari qualcuno di voi si è collegato col qr code inizio a anticiparvi il tema della prossima domanda anzi della prima domanda intanto che voi vi collegate voglio condividere un po con voi il anzi voglio chiedere voglio sapere un po quali sono le vostre idee riguardo le scienziate quindi le donne ricercatrici le donne scienziate che ad ora ad oggi lavorano nel campo della ricerca quindi la prima domanda sarà proprio volta a capire secondo voi quali sono quali sono quante sono in percentuale le donne ricercatrici parleremo dell'italia vedremo che poi i dati lo studio di cui da cui sono tratti i dati che andremo ad analizzare è stato fatto su scala europea e cercheremo un po di analizzarli semplicemente per capire qual è la situazione attuale e quali sono stati i cambiamenti quali sono state le evoluzioni per arrivare al punto in cui siamo oggi quindi iniziate proprio a pensare sappiate che il l'argomento della prima domanda è proprio il il numero di donne ricercatrici quante donne ricercatrici ci sono in percentuale ritorno su caut vedo che siete in 130 quindi direi che vi siete collegati quasi tutte e tutti vi lascio ancora un minuto poi direi che possiamo che possiamo cominciare anche perché ci siamo presi un po di tempo per le presentazioni e per e per l'introduzione ok io comincio sappiate che il pin sarà sempre disponibile in chat è sempre visibile a schermo tra l'altro quindi in basso a destra quando saremo su caut ci sarà il pin che potete utilizzare per eventualmente rientrare all'interno del gioco ok direi che possiamo cominciare intanto i numeri continuano a crescere siete tantissimi mi sento in minoranza decisamente rispetto a voi arriviamo vediamo a ok si è stabilizzato approfittiamone vi ripeto il pin sarà sempre disponibile in chat quindi non vi preoccupate se non siete riusciti ad entrare subito ci sarà occasione di farlo appunto la prima domanda è secondo te secondo voi quante sono le donne ricercatrici in italia in percentuale parliamo di un 20 per cento di un 35 per cento quindi meno rispetto agli uomini in 50 per cento quindi abbiamo una parità oppure 60 per cento sono di più rispetto agli uomini il tempo che avete a disposizione un minuto adesso sono già passati 20 secondi tenete sempre d'occhio il timer perché non per tutte le domande è lo stesso quindi dovete basarvi sul timer di quella domanda vi lascio questi ultimi secondi di silenzio per ragionare e per rispondere intanto vedo che comunque sono arrivate tantissime risposte praticamente tutte cinque secondi quindi gli indecisi o le indecise si lancino ok abbiamo raccolto 220 risposte e la maggior parte ha indovinato forse perché il 35 per cento era lì nel mezzo e poteva sembrare una una buona percentuale i 125 che hanno votato l'opzione blu ovvero 35 per cento sono quelli che hanno hanno indovinato effettivamente questo è uno studio che è stato fatto dall'instituto for statistics dell'unesco è uno studio un po datato fra virgolette perché del 2019 e sappiamo benissimo che cosa è successo dal 2019 ad oggi c'è stata una pandemia mondiale c'è stato un forte fortissimo momento di crisi quindi i dati che abbiamo sono dati pre pandemia o almeno quelli che vi sto presentando oggi sono dati pre pandemia in italia il la percentuale di donne ricercatrici e del 35,2 per cento quindi siamo ancora un po lontani dalla dalla parità sono stati fatti tantissimi passi in avanti perché le percentuali e il numero di donne ricercatrici è molto aumentato negli ultimi anni sarà interessante vedere questi dati dopo i due anni di pandemia sapete che è stato un momento un enorme momento di crisi per per tutti e moltissimi genitori uomini e hanno dovuto anche magari mettere da parte la carriera lavorativa per dedicarsi alla famiglia si è visto che questo è stato fatto principalmente dalle dalle donne a cui ancora un po è attribuito la cura della casa e della famiglia donne che appunto hanno messo da parte la carriera in questi due anni di pandemia quindi sarà molto interessante vedere questi questi dati post pandemia quindi date il 2021 del 2022 vi ho messo anche di lato non tanto il numero di donne ricercatrici quanto più la percentuale di laureati e laureate in materie stem cosa sono le materie stem saranno il fulcro centrale di questo webinar stem sta per science technology engineering e mathematics quindi è un insieme di discipline scientifiche che prende che vengono raccolte sotto questo acronimo in italia secondo rapporto istat del 2020 sul totale di laureate donne laureate solo il 17 per cento è laureato in discipline stem quindi ancora una percentuale molto bassa si dedica a discipline di questo tipo ingegneria matematica informatica fisica queste sono tutte sono tutte facoltà che ancora ad oggi sono poco frequentate e in cui si laureano pochissime donne mentre i laureati uomini in materie in materie stem sono il 36,8 per cento quindi abbiamo più di un uomo su tre e una donna su sei che si laureano in materie stem perché questo si sta cercando si sta cercando di capire quali siano i fattori sociali e culturali anche che influenzino la scelta dell'università il proseguire di un percorso universitario in ambito scientifico per le donne per gli uomini ve l'ho messo perché soprattutto mi avete detto che siete delle superiori c'è qualche quinta ci sono molte quinte quindi chissà se qualcuno o qualcuna di voi andrà a finire in queste percentuali nei prossimi anni e chissà anche qui come saranno queste percentuali una volta che voi sarete laureati e laureate quindi se ci sarà un cambiamento in questo senso vi ho parlato di discipline stem perché di discipline stem e di scienziate che hanno lavorato in discipline stem andremo a parlare cercheremo di coprire un po' tutti questi campi quindi scienze tecnologie ingegneria matematica e anche informatica programmazione cercheremo di farlo raccontando storie di scienziate che hanno proprio lavorato in questi campi in diversi momenti storici tra l'altro quindi preparatevi anche a fare dei balsi temporali ci sentiremo come in ritorno al futuro quindi andiamo avanti e indietro nel tempo cercando però di creare un filo conduttore a questo punto possiamo cominciare dopo queste prime statistiche iniziamo a parlare di due scienziate che vi presento adesso che sono jennifer dudna ed manuele charpentier perché ve le ho messe in realtà lo chiedo a voi perché sono sono qui ritorniamo fra pochissimo su caut vi do qualche indizio sono due donne scienziate che non sono tanto diverse tra l'altro dalla foto che che è stata scattata solo qualche anno fa voglio sapere da voi se avete mai sentito il loro nome se l'avete sentito in che ambito potete anche rispondermi no non l'ho mai sentito però provate ad argomentare la vostra risposta ci spostiamo su caut e vi faccio vedere anche che tipo a che tipo di domanda dovrete rispondere la domanda è una domanda aperta quindi dovete proprio digitare una risposta in composta da parole potete digitare una piccola frase e mi dite mi potete dire appunto sì ho già sentito il nome no in che ambito in che in che contesto argomentiamo il nostro sì e il nostro no qualsiasi risposta anche appunto no non ho mai sentito non le ho mai sentite e ben accetto vi ricordo il nome Jennifer Doudna ed Emanuele Charpentier e vi lascio poi il tempo per riflettere o per confrontarvi fra di voi mancano 40 secondi ma vedo che ci siamo scaldati bene con la prima domanda perché abbiamo già 190 risposte quindi ne mancano ancora poche e mancano più o meno 25 secondi nelle pause approfitterò per idratarmi mancano 10 secondi quindi provate un po' anche qui a lanciarvi nella risposta la chat è sempre a disposizione quindi nel caso in cui non siate riusciti a sfruttare caout al meglio vogliate aggiungere qualcosa la chat è a disposizione ok vediamo un po' direi che il no mai sentite no mai e no sono le risposte più quotate adesso a nuvola di parole ogni tanto si rimescola vi chiedo gentilmente di attenervi all'argomento di cui parliamo all'interno delle risposte che che date qualcuno dice no qualcuno dice no credo però che che siano che siano fisiche qualcuno dice sì ho sentito il nome ma non saprei dirvi dove e qualcuno dice sì e dice una parola fondamentale che è nobel effettivamente sì perché jennifer dudon ed emmanuel serpentier sono le vincitrici del premio nobel per la chimica nel 2020 quindi parliamo di scienziate attuali il cui lavoro è stato riconosciuto sono anche giovani quindi probabilmente non hanno terminato la loro carriera scientifica ma anzi continueranno a lavorare a studiare e però il valore del lavoro che hanno fatto fino ad ora è stato riconosciuto con uno dei più alti riconoscimenti in campo scientifico che è proprio il premio nobel li metto anche qui un'altra piccola statistica poi prometto che non ce ne saranno altre vi volevo far vedere però quante donne hanno vinto il premio nobel dal 1901 a il 2021 che l'ultimo anno in cui è stato assegnato perché nel 2022 non sono ancora stati assegnati dal 1901 anno in cui è stato istituito il premio nobel al 2021 solo 24 donne hanno vinto un nobel in ambito scientifico sono 59 in totale se consideriamo anche le donne che hanno vinto un premio nobel nel campo della letteratura e il nobel per la pace come interpretiamo questa questo grafico che che c'è qualche vi ho messo qua di fianco in grigio gli uomini che hanno vinto premi nobel in tutti i campi quindi sia scientifici che di letteratura che nobel per la pace in giallo invece abbiamo le donne scienziate che hanno vinto un premio nobel in ambito scientifico in viola invece quelle che hanno vinto premio nobel per la letteratura o per la pace come vedete c'è il divario è abbastanza è abbastanza ampio sono state assegnate più di 600 medaglie a uomini scienziati o letterati contro solo 59 donne vincitrici di premi nobel 59 sono le donne che hanno vinto il premio nobel 60 le medaglie che sono state consegnate perché c'è una scienziata che marie curie che ha vinto due premi nobel uno per la chimica l'altro per per la fisica quindi li ha vinti in due ambiti differenti però appunto questo è il motivo per cui ci sono 59 donne premiate e 60 premi nobel vedete che appunto c'è un divario abbastanza ampio la percentuale di donne vincitrici nel del del nobel sta aumentando è aumentata dal 1901 ad oggi arriviamo però a un 12 per cento di donne vincitrici di premio nobel sul sul totale quindi anche qui ci sono ancora molti passi avanti da fare adesso vi racconto velocemente che cosa hanno fatto jennifer dudene de manuel serpentier per vincere il premio nobel questa è la descrizione proprio che è stata data dall'accademia per spiegare proprio il premio nobel emmanuel serpentier genifer dudene sono state insegnate il primo nobel per la chimica per aver sviluppato un sistema di editing del genoma per modificare pezzi di materiale genetico con grande precisione e la precisione è proprio la motivazione principale per cui è stato assegnato questo questo nobel loro sono state in grado di individuare un una modalità di modifica del genoma molto molto precisa e quindi il l'hanno messa a punto e sono state in grado di applicarla a a cellule a cellule da utilizzare in cultura da utilizzare in laboratorio adesso vi spiego con un'animazione molto molto semplice in realtà come funziona questo questo metodo crisper cas 9 tanto forse la mia fotocamera non collabora vediamo se ritorna ok oggi sapete che abbiamo avuto un po di problemi tecnici già all'inizio ancora prima di iniziare quindi la fotocamera che scompare è solo una piccola parte di tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto è tornata quindi va bene così ci accontentiamo come funziona quindi questo metodo crisper cas 9 è un metodo che mi permette avendo un filamento di dna che è questo qui proprio stilizzato che vi ho messo nella presentazione avendo un filamento di dna e avendo una sequenza di interesse che io voglio andare a modificare che cosa posso fare posso usare degli enzimi che vengono rappresentati in qualsiasi animazione in qualsiasi spiegazione con delle forbici degli enzimi che vanno a riconoscere sequenze molto precise del dna che vanno a tagliare in corrispondenza solo di quelle sequenze quindi io posso andare a creare un enzima che vada a tagliare esclusivamente in corrispondenza della sequenza e della sequenza b e questo enzima non andrà mai a tagliare in corrispondenza della sequenza c e della sequenza di perché alle istruzioni di andare a tagliare esclusivamente quelle due sequenze di interesse una volta che sono state tagliate che cosa succede abbiamo l'eliminazione di un frammento di dna all'interno del quale può essere presente un gene che noi vogliamo studiare cosa succede una volta che ho operato questo taglio o le due estremità che sono rimaste separate possono essere unite oppure che cosa posso andare a fare vado a richiudere sostituendo con una nuova sequenza e questo perché è utile innanzitutto perché io posso andare a tagliare il dna e a eliminare e modificare delle sequenze in maniera molto precisa posso decidere io ricercatore ricercatrice dove andare a tagliare e perché è importante andare a tagliare e andare a modificare il dna in punti molto precisi perché perché ad esempio nello studio nella ricerca sul cancro questo è fondamentale per studiare le mutazioni che portano all'insorgenza di cellule tumorali le cellule tumorali sono cellule che vengono colpite da mutazioni in diversi punti tra l'altro del dna non solamente in uno e il risultato di questo accumulo di mutazioni e la trasformazione della cellula sana in cellula tumorale e poi la proliferazione e la formazione di di tumori che cosa faccio io tramite questa questa nuova tecnica che è valsa il premio nobel posso andare a studiare le singole mutazioni quindi io vado a prendere la mia sequenza di dna elimino un pezzo e vedo qual è la conseguenza dell'eliminazione di quell'unico pezzo e quindi dico se io tolgo questo gene che cosa succede alla mia cellula e vediamo il risultato di un'unica mutazione e così via per tutte le singole mutazioni e quindi in questo caso sono in grado di studiare le mutazioni gene per gene e vedere quali sono gli effetti sulla cellula è una tecnica tra l'altro come dice jennifer dudena come ha detto nelle interviste molto semplice a basso costo e che qualsiasi laboratorio che lavora con il dna può essere in grado di applicare e questo aperto proprio ha spalancato le porte allo studio del dna allo studio soprattutto delle delle mutazioni alla comprensione un pochino profonda di quello che succede quando una cellula il dna di una cellula viene mutato qui sicuramente la quinta dell'istituto di biotecnologie magari era fra i fra quelli che hanno risposto sì le abbiamo sentite e sì forse conosciamo cosa succede è un discorso che viene fatto soprattutto poi al all'università forse questo di modifica del del genoma però è una modifica è una scoperta importantissima che ha proprio rivoluzionato il modo di studiare anche determinate patologie detto questo la cosa interessante è andare a vedere da dove siamo partiti per arrivare a questo punto per arrivare a questo punto per riuscire a fare delle modifiche così precise noi dobbiamo sapere alla perfezione come è fatto il dna quali sono le informazioni che trasporta dove sono le informazioni che trasporta e come posso andare a interagire con con questo tutte queste informazioni le abbiamo costruite mano mano mattone per mattone abbiamo costruito questo muro di conoscenza sul dna e volevo proprio chiedervi se sapete da dove da dove siamo partiti una delle domande infatti adesso ci rimettiamo su su caut riguarda infatti questa fotografia non vi dico che cos'è potete immaginarlo visto che abbiamo parlato fino ad ora dell'argomento di cui abbiamo parlato facciamo un balzo indietro nel tempo questo ve lo dico e cerchiamo di capire che cos'è questa fotografia come prima vi chiedo se l'avete già vista se non l'avete mai vista se l'avete già vista se sapete da chi è stata scattata se sapete cosa rappresenta anche qui potete un po ampliare la vostra risposta come preferite ve la lascio ancora qui qualche secondo e poi comunque anche quando andrete a rispondere su caut ce l'avrete a schermo quindi potete comunque osservare questa immagine e ragiona ragionare su quello che potrebbe rappresentare ok direi che possiamo continuare e a domande proprio avete mai visto questa fotografia e sapete cosa rappresenta chi la scattate in che occasione così via potete in questa tipologia di risposta tra l'altro avete più spazio a disposizione quindi potete anche essere meno sintetici se volete sapete tutto su questa fotografia potete assolutamente condividerlo con noi anche qui avevate un minuto e a disposizione che ora rimane uno solo quindi 60 secondi vi lascio un po di tempo per ragionare e mancano 30 secondi vedo che comunque sono arrivate forse la maggior parte delle risposte se non ricordo male i numeri di prima vi chiedo appunto di attenervi all'argomento della domanda quindi stiamo parlando di questa foto e di chi secondo voi la scattata e che cosa secondo voi rappresenta 5 secondi adesso vedremo comparire le risposte le vedremo in una modalità diversa rispetto prima quindi avremo anche 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 qui abbiamo una sfilza di no qualcuno dice cromosoma mai sentito sembra una ventola vero assolutamente sì effettivamente non ve l'ho detto potete anche cercare di interpretarlo se sapete se sapete di che cosa di che cosa stiamo non sapete di che cosa stiamo parlando potete interpretare allora la maggior parte dice no poi in tanti dicono cromosoma e qualcuno invece dice dna quindi siamo abbastanza d'accordo sul fatto che parliamo di materiale genetico e su questo sono d'accordo con voi qualcuno mi ha anche detto che è una prima fotografia quindi il motivo per cui vi ho messo questa questa fotografia è che è stata la prima ad essere scattata e avete assolutamente ragione è la primissima foto o meglio la primissima immagine che è stata acquisita di non un cromosoma c'eravamo quasi di della struttura del dna quindi parliamo assolutamente di materiale genetico assolutamente sì qualcuno me l'aveva scritto questa è la foto 51 fotografia fotogramma 51 e il 51esimo tentativo tra l'altro che ha fatto rosaline franklin di fotografare di imprimere su una superficie la struttura del dna siamo negli anni 50 del 1900 quindi solamente 70 anni fa pensate da dove siamo partiti quante poche informazioni avevamo 70 anni fa e quanto invece abbiamo scoperto fino ad ora per arrivare a riuscire a modificare il dna ai fini della ricerca negli anni 50 ancora non si sapeva quale fosse la struttura del dna si sapeva si conosceva assolutamente l'importanza di questa molecola che trasportava le informazioni necessarie per la cellula per sopravvivere e per creare tessuti organi e il nostro organismo e qualsiasi organismo vivente in realtà non si sapeva non si sapeva non si aveva idea di come fosse però questo dna quindi c'erano diversi scienziati e scienziate fra cui rosaline franklin che stavano studiando questa questa nuova questa molecola di cui si voleva assolutamente conoscere la faccia il volto l'apparenza e questa è una immagine presa grazie a una tecnica che chiamata diffrazione di raggi x quindi rosaline franklin lavorava con i raggi x che cosa ha fatto ha preso la molecola di dna ha fatto passare attraverso la molecola di dna un fascio di raggi x e poi esattamente come succede con le lastre quando andate al all'ospedale perché vi siete fratturati il polso su una lastra ha impresso questa immagine ora voi mi direte dove la vedi la doppia elica di dna all'interno di questa immagine questa anche un'ottima domanda perché è un'immagine in realtà molto difficile da interpretare perché non è semplicemente l'ombra del dna proiettata sulla lastra ma cosa succede quando i raggi x passano attraverso ad esempio la molecola di dna alcuni saranno assorbiti altri saranno deviati e quindi quando giungono i raggi x a livello della lastra giungeranno magari deviati dalla molecola di dna in parte saranno assorbiti e quindi ho un'immagine di questo tipo se volete provare se voi usate un laser e una molla ad esempio di quelle delle delle penne che usate in classe o se proprio volete essere più più precisi ancora il quelle che sono contenute nelle nelle lampadine nelle vecchie lampadine se fate passare un raggio un raggio laser al attraverso questa molla l'immagine che ottenete sul sul muro è esattamente questa questo perché appunto il raggio x e il raggio laser attraverso la molla attraverso questa struttura ad elica arrotolata su se stessa producono un'immagine di questo tipo ovviamente la bravura non è stata solo nel creare questa immagine ma anche nel saperlo interpretare ad esempio come possiamo interpretarla ci sono alcune informazioni che vediamo se riesco a condividere con voi ok è tornato il cursore del del mouse ad esempio queste macchie qua sopra queste grandi macchie sopra e sotto macchie scure ci indicano che ci sono delle strutture all'interno del dna che sono ripetute e sono le strutture centrali del dna che sono proprio i nucleotidi che trasformano che trasportano l'informazione la x indica che la struttura una struttura a elica i raggi x infatti che passano attraverso una struttura elica formano questa classica forma a x poi sulla lastra e quindi rosaline franklin disse ok abbiamo una struttura delica abbiamo delle sequenze ripetute all'interno di questa struttura delica ma questa struttura delica da quante parti e composto è un'elica singola quindi come ad esempio la molla è una doppia elica è una tripla elica e a questa domanda ha risposto perché se vedete qui abbiamo delle fasce nere nella x ma in questo punto la fascia nera non esiste non è non c'è sulla sulla nostra lastra e questo sta proprio a indicare che la struttura del dna è una struttura a doppia elica quindi un po immaginatevi una cerniera che viene chiusa e poi viene girata su se stessa il fatto che non comparissero le fasce bianche qua le fasce scure in posizione 4 le ha permesso a rosario franklin di capire che la struttura era struttura elica ma a doppia elica quindi due filamenti arrotolati su su loro stessi adesso ve lo chiedo in chat adesso ripercorriamo un po la vita e la carriera di rosaline franklin ma vi chiedo se quando avete studiato il dna se l'avete studiato avete sentito il suo nome oppure se avete sentito altri due nomi legati alla scoperta della struttura doppia elica del dna adesso andremo a scoprirli perché il nome di rosaline franklin per molto tempo non è stato associato a questa scoperta solo negli ultimi anni si è un po ristabilito l'importanza del del suo lavoro e della sua appunto il suo apporto scientifico a questa scoperta ma di solito i nomi che vengono associati alla scoperta del dna sono due e vuole sapere se li avete già sentiti qua non c'è una domanda su caut quindi rispondete direttamente in chat se vi viene in mente io intanto appunto ripercorro un po la vita di rosaline franklin che nasce nel 1920 a londra quindi è una ricercatrice inglese e nel 1938 si iscrive all'università di cambridge c'è ovviamente l'ombra della seconda guerra mondiale che incombe non solo su franklin ma su tutti quanti non curante nel 1941 si laurea e nel 1945 consegue il dottorato quindi come tutti gli scienziati le scienziate dell'epoca ha continuato comunque la sua carriera l'ha portata avanti nonostante le difficoltà arrivando nel 1945 a dottorarsi in particolare lei studiava la chimica fisica del carbone quindi stava studiando le proprietà del carbone intanto io sbircio la chat vedo così se qualcuno a qualcuno vengono in mente altri nomi qualcuno mi dice sì effettivamente ci sono altri nomi che abbiamo sentito in in questo in questo ambito legati alla scoperta del della struttura del dna e c'è qualcuno che effettivamente mi dice i nomi i nomi veri e propri dei due scienziati che vengono citati maggiormente adesso li scopriamo insieme così se qualcuno anche ancora sta ragionando e vuole aggiungerli a tutto il tempo per farlo quindi rosaline franklin nel 45 si dottora e poi decide di spostarsi dopo la guerra a parigi dove inizia proprio a studiare la diffrazione a raggi x quindi si specializza in questa tecnica in particolare lei studia molecole biologiche come il carbonio con questa tecnica della diffrazione a raggi x si fa un bel bagaglio di di esperienza in modo da poter tornare poi nel 1951 a londra in particolare al king's college di londra a lavorare proprio come esperta di diffrazione a raggi x e lavora con maurice wilkins i rapporti fra i due non sono proprio rosei anche perché franklin arriva al king's college come collega come pari di maurice wilkins per affiancarlo nel lavoro maurice wilkins la considera fin da subito una sottoposta e a rosaline franklin non ma non va molto giù questo questa posizione a cui viene relegata quindi i rapporti fra i due sono molto difficoltosi comincia comunque lavorare al king's college e lavora con la tecnica di diffrazione a raggi x su il dna proprio abbiamo detto che in quegli anni erano tutti interessati a sapere quale fosse la struttura del dna uno dei lavoratori che studia in maniera più approfondita e in maniera più costante anche è proprio quello di wilkins e di franklin fino ad arrivare al 1952 quando viene prodotta questa foto 51 e quindi franklin identifica per la prima volta e imprime su una lastra per la prima volta la struttura doppia elica del dna wilkins che cosa fa riceve questo questo risultato da franklin e in particolare da gosling che era un dottorando che lavorava con rosaline franklin gosling fa vedere questa immagine a wilkins e wilkins la fa vedere ai due scienziati che mi avete citato in chat watson e crick che sono i due scienziati che poi nel 1953 scrivono un articolo proprio riguardante la struttura doppia elica del dna e che quindi per primi raccontano a tutto il mondo quale fosse la struttura del dna questo racconto è stato notevolmente aiutato dall'immagine prodotta da rosaline franklin e che è stata inviata a watson e crick ovviamente senza il consenso della della diretta interessata della ricercatrice che aveva attivamente lavorato a produrre questa immagine e questa immagine è stata fondamentale per watson e crick perché erano lì anche loro stavano studiando la struttura del dna era il loro scopo arrivare a descriverla l'immagine è proprio l'ultimo tastello che mancava a watson e crick per completare la teoria della doppia elica del dna nel 1953 quindi pubblicano il l'articolo sono i primi in assoluto a pubblicare l'articolo sulla doppia elica del dna rosaline franklin arriva dopo e soprattutto arriva dopo e viene screditata anche da da watson e crick relegando proprio a un ruolo assolutamente secondario il il suo lavoro watson scrive anche un libro sulla doppia elica perché racconta la scoperta della della doppia elica di dna di come sono arrivati a scoprirne la struttura e rosaline franklin non viene mai citata se non con il nomignolo rosi e con aggettivi ben poco lusinghieri rosaline franklin tra l'altro muore nel 1958 muore giovanissima per un tumore all'ovaio che chissà se è stato causato dai raggi x con cui ha lavorato per tutta la sua carriera e quindi non vive abbastanza per vedere nel 1962 il nobel per la medicina assegnato proprio a watson crick e wilkins per la scoperta della doppia elica di dna il novella effettivamente non può essere assegnato postumo quindi non può essere assegnato a persone non in vita ma soprattutto probabilmente se rosaline franklin non fosse fosse stata ancora in vita avrebbe avuto delle resistenze da parte di watson e crick nel riconoscimento del suo lavoro il nome di rosaline franklin non è poi stato molto riconosciuto negli anni successivi il suo valore come scienziata come ricercatrice è stato un po riconosciuto ristabilito negli ultimi anni e infatti scommetto che negli ultimi libri di scienze e alle superiori all'università si cita magari anche questa scienziata adesso per quando si parla della scoperta della doppia elica di dna per molto tempo non è stato così è ceduto un lavoro molto molto importante per cercare di ristabilire appunto l'importanza della sua delle sue scoperte scientifiche molto bene quindi abbiamo parlato della s delle nostre stem adesso andiamo un po più veloci perché vedo che siamo andati abbastanza lunghi adesso ci dedichiamo invece a scienziate che hanno lavorato nell'ambito della tecnologia ingegneria e matematica anche se jennifer dudna ed emmanuel charpentier hanno lavorato nel campo delle biotecnologie quindi non sono solo biologhe chimiche ma hanno proprio lavorato nel campo delle biotecnologie parliamo però di engineering mathematics e programmazione informatica con le altre scienziate che ci ci aspettano prima vi faccio vedere un video poi ci sarà un'altra domanda su caout riguardante il video e l'estratto di un film è un minuto quindi adesso ci prendiamo una pausa guardiamo questo estratto del film dopo vi chiederò se questo film l'avete già visto non l'avete visto sapete come si chiama sapete di che cosa parla e ci servirà un po per introdurre appunto i prossimi le prossime scienziate dell'argomento ingegneria matematica e tecnologia allora vediamo se mi mi ricordo come si fa a mostrarvi il video ok ok ci rivediamo fra un minuto che succede signora reason vorrei assistere alla riunione di oggi e come mai i dati cambiano molto velocemente la capsula cambia la massa le zone di lancio cambia tutto ogni giorno io faccio il mio lavoro voi assistete alle riunioni io ricomincio da capo a lancio mancano poche settimane non abbiamo ancora i calcoli esatti e perché non può assistere perché non ha l'autorizzazione al per poter fare il mio lavoro in modo efficiente devo avere tutti i dati e tutte le informazioni non appena disponibili devo essere lì e sentire insieme a voi le riunioni non sono aperte ai civili richiedono la massima autorizzazione io sono la persona migliore per presentare i miei calcoli non intendi mollare no non mollerò e poi e poi è una donna il protocollo non ne prevede la presenza ok questo l'ho capito paul ma all'interno di queste mura che chi è che fa le regole lei signore è lei il capo deve solo comportarsi come tale signore ok mi sembra che sia andato tutto bene ho avuto anche qualche confronto con la regia che mi ha detto che dovremmo essere dovrebbe essere vediamo un po ok dovremmo essere tornati anche sulla presentazione scusate ma non sono non sono abituata alla parte di regia e sono un po rallentato oggi però adesso dovrebbe funzionare tutto ok questo video tra l'altro non so se qualcuno è entrato in anticipo in in sala d'attesa prima quindi probabilmente l'aveva già visto perché durante durante le prove l'abbiamo l'abbiamo lanciato per vedere se fosse tutto ok e probabilmente qualcuno di voi l'ha già visto quello che vi chiedo però è se avete mai visto questo film se sapete di che cosa parla se avete avuto problemi con il video vi faccio vedere la locandina del film e così mi dite se appunto l'avete già visto se ne avete sentito parlare è un film recente degli ultimi 6 7 anni vediamo appunto se ne avete già sentito parlare e se riusciamo ad usarlo come collegamento per quello che che arriverà dopo ok anche qui nube di parole quindi avete qualche carattere a disposizione per rispondere sì no non l'ho visto questa è parte della locandina del film quindi potete forse immaginare il contesto non tanto per quello che c'è in primo piano ma quello che c'è sullo sfondo non vi dico altro e vi vi lascio rispondere con calma anche qui un minuto e mezzo a disposizione ok 50 secondi qua siete più indecisi su questa risposta era tra l'altro un estratto non di una scena saliente forse non ci ha detto tantissime informazioni quindi chissà però forse la locandina vi aiuta mi aiuta di più nella risposta 20 secondi 10 secondi quindi avete ancora poco tempo per per rispondere per partecipare al nostro caout e poi vediamo effettivamente che cosa di che film stavamo di che film stavamo parlando vediamo un po il diritto di contare compare bello grande insieme a un sacco di di no qualcuno l'ha visto ma non si ricorda qualcuno dice sì sono tre donne della della nasa e il film effettivamente è proprio il diritto di contare bravissimi e bravissime il diritto di contare il titolo che è stato assegnato alla pellicola in Italia in inglese si il titolo è hidden figures quindi si parla di personaggi nascosti che hanno lavorato come si vede adesso dalla locandina intera nella nasa in missioni e in programmi che sicuramente di cui avete sicuramente sentito parlare ovvero delle missioni a pollo e anche delle missioni dei programmi precedenti che però sono culminate con la missione a pollo 11 che il 20 luglio del 1969 ha portato tre astronauti che vedete qui in foto e i cui nomi sicuramente conoscete sulla superficie lunare in realtà dei tre astronauti solo due sono scesi sulla luna mentre uno per un paio d'ora è stato l'uomo più solitario dell'universo perché non aveva nessuno con cui parlare e in alcuni momenti nessuna comunicazione alcuna con la terra o con i suoi compagni di missione quindi solo in due sono scesi sulla superficie lunare uno ha avuto molto coraggio e ha tenuto i nervi saldi per comandare la missione che cosa c'è dietro dove siamo partiti per riuscire a concludere queste emissioni con l'allunaggio e con i tre astronauti della missione a pollo 11 che sono arrivati sulla luna e i successivi astronauti ovviamente quali sono i personaggi che non sono stati citati che sono stati poi citati successivamente e che però hanno partecipato a questa impresa sono soprattutto ingegneri matematici programmatori programmatrici di cui adesso vi parlo ma prima di parlare di loro vi faccio un'ultima domanda riguardo secondo voi quando si inizia a parlare di informatiche soprattutto quando si inizia a parlare di macchine analitiche e di programmazione e di programmi perché il fulcro di queste missioni è assolutamente un programma un programma un software che guidi e che porti passo a passo le varie componenti verso il l'obiettivo che in quel caso era la superficie lunare il percorso per costruire programmi hardware e software che riescono a sostenere programmi così così importanti è stato abbastanza lungo vi chiedo secondo voi però quando si inizia a parlare di mac macchine analitiche e programmi quindi proprio le primissime immaginatevi delle i dinosauri dei nostri computer non di certo questo che è rappresentato in foto dieci secondi vediamo un po che cosa ne pensate allora la maggior parte di voi dice dopo il 1900 quindi dal 1900 in poi si inizia a parlare di programmazione macchine analitiche software e computer sedici coraggiosi e coraggiose di voi si sono lanciate sulla prima risposta metà del 1800 che effettivamente era quella corretta quindi vi ho detto pensate proprio ai dinosauri agli antenati dei nostri computer adesso vi faccio vedere qual era l'antenato il nostro computer e il motivo per cui si inizia a parlare di programmazione già nel mille a metà del 1800 e per questa scienziata che vedete qua davanti a da lovelace che nasce a londra molto più simile forse alla seconda foto che vi ho messo che non alla prima e figlia di lord byron che non so se avete sentito ne avete sentito parlare la vostra insegnante di letteratura inglese se c'è probabilmente vista guardando e vi sta dicendo che si avete sentito parlare un famosissimo poeta inglese poeta e politico mentre la madre era matematica quindi ada cresce proprio circondata sommersa da questi libri di matematica per fortuna si appassiona alla materia perché non è detto che questa aura di matematica l'avrebbe ispirata invece è stato così e durante la sua vita si dedica proprio allo studio della matematica e dell'informatica della programmazione lavora con Charles Babbage che è il l'ideatore della macchina analitica quindi questa è la prima macchina analitica il primo precursore del computer del computer che Charles Babbage si immaginava potesse andare a calcolare in maniera indipendente dai calcolatori umani perché a Charles Babbage viene in mente questa idea perché si rende conto a un certo punto che sulle tavole matematiche che lui andava ad analizzare c'erano tantissimi errori e quindi dice ma non si può trovare un metodo con cui tutti questi numeri possono essere calcolati da una macchina che non è soggetta agli errori alla stanchezza alla noia e alle palpebre calanti dei calcolatori umani e quindi sviluppa questa macchina analitica a cui lavora anche Ada e in particolare lei si occupa non tanto della costruzione della macchina quanto della programmazione della macchina e quindi di cercare dei programmi dei calcoli che potessero essere fatti in maniera autonoma dalla macchina stessa lavorano per molto tempo insieme Charles Babbage le chiede a un certo punto anche di tradurre un un articolo che era stato scritto in italiano da Luigi Menabrea in cui descriveva il funzionamento della sua macchina analitica e Ada non solo lo traduce ma aggiunge una serie di annotazioni che erano alla fine molto più lunghe dell'articolo di partenza perché lei era proprio affascinata dalle potenzialità future di queste macchine. Ada è stata in grado di guardare proprio nel futuro, di guardare gli sviluppi futuri di queste macchine e soprattutto a iniziare a pensare che non solo i numeri potessero essere analizzati in maniera autonoma da queste macchine ma forse anche serie di immagini e molto altro in futuro. Quindi diciamo che anticipa un po' quello che viene fatto poi nella programmazione del software moderno, quindi abbiamo una macchina funzionale che può essere programmata per archiviare, manipolare, processare dati. Tutto questo Ada l'aveva già immaginato a metà del 1800. Tra l'altro Ada produce anche un programma, va a ideare un programma per il calcolo dei numeri di Bernulli. Questo programma che può essere forse considerato il primo programma della storia viene anche considerato poi successivamente da Alan Turing che non so se è un nome che vi suona familiare ma è un matematico inglese a cui è stato ispirato il film The Imitation Game e Alan Turing lavora proprio sul primo computer che poi non vi faccio spoiler del film ma che è servito in una particolare guerra del novecento per sconfiggere l'avversario e questo ispirato proprio dai programmi e dagli algoritmi che aveva immaginato Ada già alla fine del 1800. Ada Lovelace non era proprio una donna tradizionale, era appassionata anche di corse dei cavalli e si dice che usò la sua mente, la sua passione per algoritmi e programmi per sviluppare un programma di aiuto allo scommettitore. Quindi basato sul calcolo delle probabilità si dice che lei abbia sviluppato questo programma per vincere, per aiutare gli scommettitori nelle corse di cavalli. Quindi Ada non era assolutamente una donna tradizionale fra virgolette del 1800. Quindi i primi programmi, i primi software li abbiamo già nel 1800, metà fine 1800, Ada è una matematica programmatrice che ha proprio spianato la strada ad altre donne che hanno lavorato poi nelle missioni che vi ho citato prima. Una è Margaret Hamilton, non so se avete sentito il suo nome, è lei in foto, che posa di fianco alla pila di fogli che sono stati utilizzati da lei per scrivere il programma dell'Apollo 11, il codice dell'Apollo 11. Un fotografo della NASA appunto era andato in ufficio per fare alcune foto di rito e lei e un suo collega hanno avuto l'idea di mettere in pilare uno sopra l'altro tutti i fogli che avevano prodotto a mano anche per scrivere il codice dell'Apollo 11. Questa è la quantità di dati che Ada ha prodotto nel corso della sua carriera fino al 1969, quindi fino alla missione Apollo 11 e anche lei è una delle figure che pian piano poi sono state riconosciute essere fondamentali nelle missioni spaziali della NASA negli anni 60 70 e anche oltre vedremo. Infatti lei inizia a programmare per la NASA i programmi quindi i codici necessari all'Apollo 11 quindi per l'allunaggio per portare l'uomo sulla sulla luna. Lei è stata la prima programmatrice assunta in realtà primo programmatore del della missione assunto nonché prima donna e per molto tempo in realtà lei racconta che è stata l'unica donna programmatrice gradualmente però all'interno della NASA è stato riconosciuto il suo merito la sua capacità e arriva a dirigere gruppi di centinaia di ingegneri quindi già durante la sua carriera assolutamente il contributo di Margaret Hamilton all'interno delle mura della NASA era ben riconosciuto. Lei tra l'altro racconta che ha avuto anche una figlia mentre lavorava alla NASA che si chiama Lauren e lei diceva portava ogni tanto la sera o nel weekend Lauren al lavoro con me perché non riuscivo a lasciarla a nessun altro e mentre io programmavo i codici per mandare l'Apollo 11 sulla luna quindi tutto il codice di viaggio dell'Apollo 11 a lei piaceva fare l'astronauta quindi si metteva lì davanti a me e faceva finta di fare l'astronauta schiacciando vari tasti a un certo punto sul computer lei fa partire il programma di volo la simulazione del programma di volo Lauren schiacciando con le sue manine fa partire la simulazione del programma di volo quindi parte per il suo viaggio sulla luna davanti al computer e a un certo punto continua a schiacciare con con le sue mani e Margaret si rende conto di una cosa ovvero che il software è andato completamente in crash perché è stato fatto partire un programma di pre lancio quindi mentre il programma era in viaggio verso la luna Lauren con le sue manine ha schiacciato un tasso per avviare un programma di pre lancio e quindi il software è andato in crash perché non ha più riconosciuto i comandi e quindi si detta ma non è che potrebbe anche succedere effettivamente durante una missione e quando gli astronauti sono davvero sulla sul sul raggio sulla o sulla navicella lo dice l'MIT lo dice alla NASA lo dice sui superiori e loro gli hanno detto scusa Margaret gli astronauti sono ben addestrati sanno esattamente che cosa fare cosa fare nelle situazioni di emergenza e soprattutto cosa non schiacciare quindi non ti preoccupare non è necessario modificare il software durante la missione Apollo 11 cosa succede esattamente quello che aveva fatto la figlia di Margaret durante la simulazione quindi un astronauta per errore schiaccia un pulsante che attiva un programma di pre lancio e quindi momenti di panico perché c'erano fisicamente gli astronauti all'interno del delle navicella che era in viaggio verso verso la luna nell'atmosfera e quindi a quel punto dicono Margaret forse si modifica il software perché potrebbero succedere inconvenienti di questo tipo e quindi dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza e quindi lei dice sono rimasta soddisfatta perché poi alla fine mi hanno permesso il cambio di programma e ho fatto esattamente come avevo proposto quindi assolutamente una donna di carattere che poi nel 2016 lei è ancora in vita tra l'altro e nel 2016 le è stata consegnata la medaglia presenziale alla libertà che è la maggiore onoreficenza civile che può essere data negli negli stati uniti è stata data lei è stata data ai tre astronauti dell'apollo 11 che per primi sono arrivati sulla luna e tra l'altro spoiler è stata data anche a katrin johnson katrin johnson che è la protagonista del film che abbiamo visto prima dell'estratto del film il diritto di contare il diritto di contare racconta proprio la storia di katrin johnson una matematica afroamericana che insieme a due colleghe anche se afroamericane sono quelle che avete visto nella nella locandina dorothy vaughn e mary jackson lavora proprio all'interno del programma della nasa e loro si occupano di calcolare invece le traiettorie di volo quindi loro fanno il calcolo traiettoria di volo e poi passa margaret emington a consegnare i codici per i software di di bordo ma katrin johnson lavora per moltissimi anni alla nasa già inizia nel 1953 quindi ben prima delle missioni a pollo che hanno portato l'uomo sulla sulla luna nel 59 calcola la traiettoria di volo del volo di alan shepherd che è stato il primo volo spaziale americano con equipaggio e nel film tra l'altro si vede che si occupa sempre poi della del calcolo delle traiettorie di di lancio e ci sono alcuni astronauti anche qui non vi dico non vi dico molto così se volete vedere il film potete farlo tranquillamente c'erano alcuni astronauti che si fidavano esclusivamente di katrin johnson quindi non volevano assolutamente viaggiare se le traiettorie di volo non erano confermate da katrin johnson e come avete visto nel nel film e come si vede più ampiamente nel film in realtà la vita di una donna afroamericana nella nell'america del 1960 non era semplice c'erano ancora le leggi di segregazione razziale quindi molti luoghi non erano non era concesso a katrin johnson e sui colleghi di entrare in moltissimi luoghi e come avete visto nel video di prima anche alle riunioni non era permesso permessa all'entrata non alle donne afroamericane in particolare ma alle donne in generale e invece katrin johnson ha detto i calcoli li faccio io le traiettorie le faccio io vengono giustamente modificate a seconda delle esigenze ho bisogno di farlo nel modo più efficiente possibile quindi fatemi partecipare alle alle riunioni quindi una donna che sicuramente ha lottato per il per il proprio lavoro e per far sì che il proprio lavoro venisse riconosciuto all'interno della nasa è stato così tanto che appunto lei ha lavorato dopo il 69 ha continuato a lavorare nella nasa per le successive missioni e lavora anche al programma space space shuttle e ai primi piani di ipotesi di missione su marte quindi lavora anche qui fino praticamente al alla sua pensione all'interno della nasa katrin johnson e il lavoro il suo lavoro e quello delle sue colleghe è celebrato in questo film che è il diritto di contare che apre un po le porte a tutto tutti retroscena delle delle missioni di esplorazione spaziale e racconta le storie di donne ricercatrici scienziate che erano alle spalle di queste figure famose ultima donna che vi cito è l'unica donna che era presente nella sala di controllo della missione apollo 11 quando l'apollo 11 è sbarcato sbarcato sulla luna e e lei come vedete è l'unica donna che potete trovare all'interno della della sala di di controllo oltre alle mogli degli astronauti unica donna ingegnere presente nella sala di controllo era una delle prime donne ingegnere che ha partecipato a questa a questo programma di esplorazione spaziale e esattamente come margaret hamilton per molto tempo è stata l'unica donna in in assoluto detto questo le cose sono sono cambiate stanno cambiando questo me lo direte voi in base poi alle vostre esperienze future questo era un po un racconto di alcune donne scienziate ricercatrici che hanno fatto moltissima strada in campi che fino a poco tempo fa erano ritenuti appannaggio esclusivo di uomini quindi ingegneria informatica programmazione tecnologia e così via sono donne il cui lavoro un poi rimasto nell'ombra un po è stato riconosciuto spero che vi vi dia uno spunto anche solo prenderà cercare altre informazioni riguardo alle ricercatrici di cui vi ho parlato o alle ricercatrici e scienziate in generale che lavorano tutti i giorni in queste discipline ma ma non solo detto questo direi che abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione se avete qualche domanda io come vi dicevo o la chat o la chat qui sotto sotto gli occhi altrimenti vi faccio vedere gli ultimi riferimenti il sito scuola punto arco punto it per andare a eventualmente iscriversi alla newsletter o andare semplicemente a guardare tutte le iniziative i programmi di di arc scuola info che c'è la scuola punto arco punto it se avete qualche domanda se fra un po vi viene qualche domanda qualche curiosità riguardo al webinar potete assolutamente contattar contattare arc scuola a quell'indirizzo in chiusura vi comparirà un questionario di gradimento se volete compilarlo potete dare una vostra opinione riguardo al webinar non mi sembra ci siano domande io vi lascio alle vostre lezioni alla vostra preparazione di maturità per qualcuno e alle lezioni a tutti gli altri e vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata buona giornata a tutti a tutte